Ciao bimbi, benvenuti! Benvenuti alla nuova favola di Pat! E guardate un po' già chi c'è con noi oggi! Pat saluta! Ciao! Come stai Pat? Bene! Mi fa molto piacere! Hai mangiato la pizza fatta da te ieri sera? Sì! Brava Pat! Occhio che tu mi diventi cicciottella! Ma sono brava che sono arrivata presto! Sei stata bravissima! Perché secondo me a te piace sentire la tua sigla! Pat Pat! La più bella Pat Pat! E tutti giù per terra Pat Pat! Lo vedi come balla Pat Pat! Un giorno vi faremo il balletto di Pat! Povera me! Allora bimbi, cosa andiamo a leggerci oggi? Oggi ci andiamo a leggere Pat? Non me lo ricordo perché non ho studiato! Eh! Sei proprio una tortellina Pat! Scherzo! Un rinofante sul tetto! Oggi ci leggiamo? C'è un rinofante sul tetto! Ma visto che è un pochino lungo lo divideremo in due parti! Quindi il video di oggi sarà la prima puntata di C'è un rinofante sul tetto! E domani faremo un altro video con la seconda puntata! Quindi dovete seguirci per sapere come va a finire la storia di Daniel e dei suoi rinofanti! Attenzione bambini! Perché questa Pat è una storia di paura! Ora mi fai vedere il travestimento da Pat fantasma? Vediamo un po' come viene Pat fantasma! Ma sei bella pure in versione fantasma Pat! Sono cicciotta come una salsiccia! Chissà se sarà buona anche da mangiare! Pat cominciamo subito! Bando alle ciance, ciancio alle bande! C'è un rinofante sul tetto! E vogliamo ringraziare tantissimo l'edizione Lupo Guido per averci permesso di leggerlo in questi giorni di quarantena! Ok? Allora! Attenzione bambini! Mettetevi comodi nelle vostre sedie! Perché sta iniziando una favola paurosissima! Daniel va a dormire per la prima volta a casa dei nonni! Il nonno gli legge la storia di un soldato valoroso! La nonna gli canta una canzone di un topolino coraggioso che corre sopra un orologio! Ehi ma adesso è ora di addormentarsi! Il letto però non è comodo come il suo! La stanza gli sembra più buia della sua e sente uno strano rumore sul tetto come di animali enormi e pesantissimi che danzano e saltellano intorno al comignolo! Povero Daniel! Non c'hai paura, è fatto! No! Eccoli qua! Lui pensa... Vedete Daniel qui? Immagina che questi sul tetto siano proprio i rinopanti! Ecco qua il suo orsacchiotto, il suo michetto! Mmm... Ma che farà Daniel dopo aver sentito questi rumori? Nonno! Grida Daniel! Nonno, sento qualcosa sul tetto! Che cosa senti, Daniel? Chiede il nonno. Penso che siano dei rinopanti! Rinopanti? Un intero branco di rinopanti! Ah, rinopanti! Dice il nonno. Ma noi non abbiamo paura dei rinopanti! Giusto! Vero? Sì! Vado subito a prendere il bastone da passeggio così li cacciamo via! Che fa il nonno? Il nonno batte il bastone sopra il soffitto. Andate via rinopanti! Dice il nonno con tono minaccioso. Ah, andate via rinopanti! Dice Daniel con tono minaccioso. E tutti i rinopanti di colpo saltano giù dal tetto. A quel punto Daniel sente solo il pruscio del vento e il rumore dei rami che strusciano contro le tegole. Shhh! Shhh! Abbiamo anche la rumorista. Eh, non ho avuto neanche un po' di paura! Dice Daniel. Certo che no! Dice il nonno. Eri solo curioso. Ma nel momento in cui il nonno esce dalla stanza, Daniel sente un altro rumore. Questa volta sembra più vicino. Come di qualcosa che russa e sbuffa nel bagno. Una specie di viscida creatura acquatica nascosta dietro la tenda della doccia. Nonna! Urla Daniel. Nonna c'è qualcosa nella doccia! Guardate cosa si immagina di Daniel questa volta. Il povero Daniel si immagina di essere su una barchetta in preda a questo mostro bruttissimo. Ma il mostro che cos'è? Eh, che cosa sarà questo mostro? Gli lo chiede anche la nonna. Che cosa sarà mai Daniel? Chiede la nonna. Non lo so nonna. Dai versi mi pare uno spietato coccopotamo. Cos'è un coccopotamo? Un coccopotamo? Un cocco che si può mangiare. Non credo che sia così buono. Un coccopotamo, dice la nonna. Ma non sai che i coccopotami sono dei veri codardi? Vieni, vieni che ti faccio vedere. La nonna sposta la tenda della doccia con molta cautela. Anche Daniel sbircia da dietro le sue gambe con molta cautela. E buh! Grida la nonna. Buh! Grida Daniel. E il coccopotamo si spaventa a tal punto che scappa via. Quando Daniel guarda dietro la tenda della doccia, trova soltanto un rubinetto gocciolante. Io so chi è stato, dice la nonna. I coccopotami sono creature veramente sbadate. Non ho avuto paura, dice Daniel. Ero solo curioso. Oh, anch'io, dice la nonna. Non avevo mai visto un coccopotamo in carne ed ossa. Ma non dovrebbero arrabbiarsi, nonna. La nonna e il nonno che li svegliano per tutta la notte. Chissà se Daniel riuscirà a farli arrabbiare. Ma quando Daniel si trova di nuovo solo nella stanza, si accorge che l'armadio è leggermente aperto. Dal profondo buio dietro l'anta, qualcosa di orribile lo sta fissando. Guardate un po'. Ecco l'armadio. È un po' aperto. Sembra un mostro con un lungo collo, un muso blu e occhi fluorescenti. Guardate anche questa volta cosa si immagina Daniel. Ma se ha un collo lungo vuol dire che è... Lungo... Chi è che... Qual è l'animale che ha il collo lungo? La giraffa! Eh, esatto. Vediamo un po' cosa sarà questa volta. Cosa fa? Daniel appena vede questa cosa strana che esce dall'armadio, chi chiama? Nonno! Grida Daniel. Vedo qualcosa nell'armadio! Ma che cosa vedi Daniel? Chiede il nonno. Guarda quei brutti occhi, nonno. Eh, beh, beh, credo che siano di una dragoraffa blu. Dragoraffa, giraffa, si assomigliano, però è blu. Le giraffe sono gialle. Eh, già. Una dragoraffa blu, dice il nonno. E chi ha paura di una dragoraffa blu? Proviamo a bussare, vedrai come scappa in fretta. E il nonno e Daniel battono tre volte sull'armadio. Quindi il nonno apre l'anta e improvvisamente non c'è più traccia della dragoraffa blu. Sul ripiano più alto c'è soltanto una vecchia maglia della nonna con i bottoni un po' luccicanti. Ho avuto paura, dice Daniel, ma solo un pochino. Ma sei ugualmente riuscito ad affrontare la dragoraffa blu, dice il nonno. Sei stato molto coraggioso, Daniel. Daniel adesso va a dormire. Ma appena chiude gli occhi, appena chiude gli occhi, che succederà? Che dici Pat? Si vedrà nella seconda parte del video. Esatto! Lo scopriremo la prossima volta. Quindi domani? Sì, certo! Mi raccomando, non perdetevi la seconda parte di C'è un rinofante sul tetto. Mi posso preparare? Vabbè, vabbè, ti vuoi presentare? Sì, vieni qua insieme che diciamo un'ultima cosa ai bambini che ci seguono. Vieni, Pat! Sei una gallina, Pat! Ah, no, non sei una gallina, sei Francesco! Francesco, oi sa! Eccolo qui il nostro Pat! Dunque, Francesco, chiediamo ai nostri amichetti ascoltatori di scriverci se anche loro hanno paura quando stanno a letto da soli. Perché questo qui ce l'ha! E voi di che cosa avete paura? E soprattutto, siete mai stati a dormire dai nonni, dagli zii? Io no! Lo so, che magari se voi ci andate, certo non adesso, però più in là, quando tutto finirà, se voi mi dite che andate a dormire dai nonni, magari anche piccolo Francesco Pat si decide a rimanere dai nonni. Senti, non devo fare la voce mia o di Pat? E queste sono domande esistenziali. È come a Amleto che si chiede se essere o non essere. Tu sei Pat o non sei Pat? Io no! Scopriremo anche questo. Io no, no, non lo sono. Ma chi l'ha detto? L'ha detto Pat o te? Io! Oh, va bene, che confusione! Allora, io mi metto nel braccio Pat. Oh, davvero? Non lo avevamo proprio capito! È un pupazzo! Ciao bimbi! Vi aspettiamo per la seconda parte del Rinofante sul tetto domani. Un abbraccio! Ciao! Ciao!